Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia Grazie a tutti Buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere con noi Vedete subito qui c'è una poltrona vuota e fra poco sarà occupato da un personaggio Un personaggio molto noto in questi giorni Perché? Perché sapete oggi si fallisce per colpa anche dello Stato Oggi tra l'altro è il primo giorno diciamo del nuovo governo Hanno firmato da poco, hanno giurato da poco E ci auguriamo che non sia come i governi precedenti E che le cose possano essere considerate diversamente E che ci sia dignità per tutte queste persone Che andremo a presentarvi questa sera Lo Stato italiano non paga gli imprenditori che vantano dei crediti nei suoi confronti E poi, come se non bastasse, ti porta via tutto E questo è accaduto anche a Monza A Sergio Bramini, settantenne ex titolare della ICOM Azienda operante nel campo della gestione rifiuti Bramini è stato sfrattato E la sua ICOM è fallita nonostante vantasse 4 milioni di crediti dalle pubbliche amministrazioni Soldi che l'azienda di Bramini non ha mai visto E nei giorni scorsi sia Di Maio che Salvini sono andati a portargli solidarietà Ma lo vedremo dopo Intanto, dopo andrò a presentarvi anche gli ospiti qui presenti Che sono importanti, tanto quanto anche Bramini Però quello che è successo a Bramini è una cosa veramente incredibile 4 milioni di credito, 3 milioni e mezzo di debito Con 500 mila euro mi pare di differenza, vero? Si potevano risolvere altro che problemi Però intanto, sentiamo che cosa ha preparato per noi a tal proposito Antonio Tosello E poi andrò a presentarvi sia Bramini che gli altri ospiti Intanto, via con la prima copertina della serata Vai regia Pagati, il curatore, le banche Non mi rimane più niente Il lavoro di una vita, non c'è più Non c'è più Non c'è più Ho creduto nello Stato Ho creduto nelle persone con cui venivo a contatto Il lavoro di una vita, non c'è più Questo Mi ritrovo in mezzo alla strada Sergio Bramini Prego prego Attenzione ai gradini Eccolo qua Sergio Bramini Buonasera a tutti Prenda pure il suo posto Poi andremo a capire Ecco, noi abbiamo detto 4 milioni di euro di credito Ecco, si rivolga pure al pubblico Guardi la camera numero 3 Dica a loro che le stanno guardando Cosa è successo a Bramini E la cosa che mi ha impressionato Che ho visto, ho seguito Devo ringraziare anche poi Luciano Di Segna Che mi ha chiamato alle 7 del mattino Per raccontarmi questa storia O super giù Insomma, che era presente E quindi ho preso a cuore anche la sua vicenda Oltre che quella delle altre persone che sono qui presenti Allora, cosa è sta storia? 4 milioni di credito e 3 milioni e mezzo di debito Allora? Ma io ho iniziato a fare l'imprenditore giovanissimo Avevo 24 anni E ho iniziato da niente Venivo oltretutto da una famiglia di operai Quindi ho fatto tutta la mia strada Per cercare di ottenere qualcosa Lavorando 16-17 ore al giorno E alla fine avevo un'azienda che andava bene Che era anche conosciuta 20 brevetti che adesso naturalmente ho perso Perdendo anche l'azienda Perché non sono stati poi più pagati Brevetti per che cosa? Brevetti per macchinari Per il trattamento rifiuti Trattamenti speciali Io sono un chimico di estrazione Ecco Da giovane lavoravo al laboratorio ricerche cavi Della Pirelli Ero uno degli 11 assistenti E poi mi sono staccato E ho cominciato la vita dell'imprenditore Piccolo imprenditore E l'ho finita da piccolo imprenditore Avevo 32 operai E fatturavo mediamente 4-5 milioni di euro Ho iniziato costruendo l'impianto tradizionale La discarica Le prime discariche europee Poi sono andato agli impianti di biogas Poi agli impianti di trattamento Dei rifiuti industriali Poi anche trattamento dei rifiuti urbani In particolare gli impianti semi-automatici Per la differenziata Le cose andavano bene Poi prendevo degli appalti di smaltimento rifiuti Spazi al nord ce n'erano pochi Ho partecipato a appalti in Sicilia Li ho vinti E poi ne ho conseguiti degli altri Ho lavorato 19 anni Nel territorio di Ragusa Poi sono stato chiamato Dall'allora ministro dell'ambiente a Napoli Perché avevo certi brevetti Sul trattamento dei rifiuti dell'umido organico E ho iniziato a lavorare anche a Caserta E a Napoli nell'emergenza rifiuti E questi sono i crediti Che mi sono rimasti sulla schiena Questi crediti Cioè come avvengono? Perché lei doveva essere pagato dallo Stato? Cioè come avviene? Io lavoravo per leato Che erano questi consorzi ambientali Che erano composti da comuni Comuni che si pagavano con la Tarsu Con la tassa rifiuti Inizialmente ero pagato In lungo Perché non pagavano Quindi sono i comuni Non pagavano a 30 giorni Pagavano a 120 A 150 giorni Quindi in primi Faccia capire I nostri amici telespettatori Sono i comuni che non pagavano O direttamente allo Stato E lo Stato che non pagava i comuni E di conseguenza non pagavano lei Ma guardi Qualcuno mi ha contestato Che le amministrazioni comunali Non sono lo Stato No C'è una legge che lo stabilisce I comuni sono lo Stato Per quello dico io I soldi li avanzavo dallo Stato E anche i consorzi di comuni Anche leato Anche si identificano Per dei motivi Che adesso non stiamo a narrare Ma che sono stati sviscerati Anche politicamente Fingevano di essere dei privati Dicendo che non erano lo Stato Perché erano delle S.P.A. Ma erano S.P.A. di comuni Perché non pagavano lo Stato? Ha le motivazioni Dice I cittadini qua non pagano la Tarsu E quindi noi abbiamo le casse vuote E quindi non possiamo pagare Peccato che io pagavo il gasolio Gli operai I macchinari E tanto quanto Ecco I materiali di consumo Perché seguivo anche la discarica Da quanto tempo dura? Quindi i drenaggi, la sabbia Ma questa storia da quanto tempo dura? Voglio dire Nel tempo? Beh è iniziata nel 2007 Ma tanti mi dicono Ah ma dovevi chiudere subito Beh è uno stilicidio Non è che dalla mattina alla sera Non mi hanno pagato 4 milioni Sono abbastanza Abbastanza affinati in questo Cominciano a non pagare E darti Invece che 320 mila euro al mese Me ne davano 200 E io facevo il buco Poi hanno cominciato a inviare i commissari Adesso dal mese prossimo Ti paghiamo il residuo Piani di rientro Sei piani di rientro Mai coperti E così si andava avanti E tu sei portato a dire Sì Lo Stato paga lungo Io avevo preso qualche fallimento di privati E dico Lavoro per lo Stato Paga lungo Ma i soldi arrivano Ma non è stato così Perché alla fine Nel 2011 Batto e disperato Dopo aver impiegato i miei quattrini Perché ho fatto un mutuo Di 500 mila euro Ipotecando la mia casa Quando sono finiti La sua villa La mia villa Che la villa è di Mi pare che dicesse È enorme Un giardino di 6 mila metri quadri Sì è grande Io ho investito nella casa per viverci E negli uffici per lavorare Cioè è il frutto È stato un po' l'orgoglio di uno che lavora Cioè io Cioè uno che ha lavorato tutta una vita A 70 anni Mi sono comprato una casa grande E mi sono fatto anche una piscina Perché amavo nuotare Avevo anche la palestra Perché mi tengo in forma E me lo sono permesso Con i miei soldi Non spacciavo la droga No, lavoravo Mi alzavo tutte le mattine alle 6 Come adesso E lavoravo parecchie ore al giorno Insomma lei mi sta facendo capire Che tra l'altro Io dico poveri cittadini Perché Quello che riesco a capire anche Al di là di quello che Del lavoro che fa lei Che proprio I rifiuti sono un business Insomma Incredibile Quindi noi cittadini Pensate Dobbiamo anche Pagare i nostri rifiuti Perché vengono Ma un business come un altro Un business come un altro Perché io lavoravo a 29 euro Una tonnellata Mi pagavano Che non è una cifra Allora Vediamo un pochettino La storia Di Bramini Che è stata raccolta Proprio dal nostro Tosello Sui vari Tg nazionali E poi Perdono per gli altri Poi vado A presentarvi subito Guardiamo questa piccola storia Vai regia Da imprenditore di successo Ha fallito Senza averne colpa È il paradosso di Sergio Bramini Che ora Rischia anche di vedere Messa all'asta La casa dove abita La sua azienda Specializzata nel trattamento Dei rifiuti Fatturava 5 milioni di euro L'anno Ma fra i clienti Aveva anche enti locali Che non lo pagavano Nel 2011 Bramini È arrivato a vantare Un credito Di 4 milioni di euro Nei confronti dello Stato Per lavori svolti in Sicilia E Campania Soldi Che non ha mai ricevuto Non mi sono mai arrivati Perché Quando Un'impresa è fallita L'amministratore Diventa il curatore fallimentare Il curatore fallimentare Ha transato E ha preso 438 mila euro Su 4 milioni Quindi non ha fatto Non solo i miei interessi Ma neanche quelli dei creditori Mentre la giustizia Fa il suo corso Inesorabile Bramini Cerca di difendere Almeno il suo tetto Per salvare la vecchia società Il manager Aveva ipotecato Questa villa Vicino a Monza Dove abita Con moglie Tre figli E una nipotina L'immobile È stato messo all'asta Un quinto del suo valore E gli è stato notificato Perfino lo sfratto Ah io Questo Stato Non lo riconosco più Bramini Ha denunciato Il curatore fallimentare Che ha accettato Un decimo Del denaro Che lo Stato Gli doveva Quella cifra irrisoria Non è riuscita A salvarlo dal crack Adesso Teme anche Di dover lasciare La sua casa In Extremis Lo sfratto È stato rimandato Al 16 aprile Ho avuto anche Il dolore Di lasciare a casa Diverse persone Che avevano lavorato 30-35 anni Con me E Vi lascio immaginare Se tutto questo È giusto Non che non è giusto E le cose Questo è qualche giorno fa Le cose Oggi Come sono messe Ebbè Il signore Era presente E ha visto Sono stato Slogiato Con la forza 60 Poliziotti In assetto Antisommossa Sono uscito Sono uscito Sono uscito dal cancello Dico Ma forse Si aspettavano Rina No Invece ero io Con la mia famiglia Ho lasciato Il letto Sfato Le cose Nel frigo E me ne sono andato C'è stato Un imprenditore Lei non abita più In quella casa No Ha dovuto lasciare L'hanno chiuso No Guardi Mentre Mentre ero Con i senatori E con i parlamentari Ci eravamo legati C'era anche il signore Legato con me Vediamo Dovremmo avere La clip Di quel giorno Mi pare Vero regia Facciamola vedere così La può commentare Anche lei Che cosa è accaduto quel giorno Vai vai regia Andate a vedere il porto Andate a vedere Buongiorno 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 Silenzio Buongiorno 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 Magistrati Merda Magistrati Filippo Buongiorno 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 Il popolo Il popolo Si deve ribellare So di non essere una bosca bianca Ma sono uno dei tanti Soffrire in silenzio e basta Buongiorno 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 Sono un cittadino libero, non accetto che io non possa entrare lì, allora accompagnatemi da mia moglie che gli dico di venire fuori. Unire uno per educare 100 e quell'uno sono io. Questa è la sconfitta del popolo italiano. Io sto iniziando da qua, grazie. In questo momento stanno uscendo tutti. Io sto procedendo all'attività di polizia, la invito ad uscire fuori, grazie. Perché se gli altri vedono voi qua non escono, quindi è una questione del cane che si trude la coda. Basta. Tutti con te. Ecco, quello che, sì, tanti applausi, tanta solidarietà che è valsa a nulla, Maramini. Cioè il popolo, la gente, è vicino, batte le mani, piange, grida, urla contro questi personaggi che arrivano. Io ho l'ordine di, sto facendo le funzioni del poliziotto. Questi sono gli ordini che devo eseguirli. Noi siamo in mala, siamo stati in mala di uno stato poliziesco, insomma. Quindi noi abbiamo subito ogni angheria. Quindi lei oggi passa davanti alla sua casa, la casa dove si sogna, diciamo, quella che lui è riuscito a costruire nell'arco della vita. E i sentimenti che pervadono il suo animo, quali sono, Sergio Bramini? Puoi immaginarli. Lì sono nate le mie due figlie. Ha visto quella casa sull'albero. L'avevo costruita io per una delle mie figlie quando era piccolina. Perché potesse giocare. Sì. Siamo una famiglia. I miei cani. Ieri è morto uno dei miei due cani. Perché abbiamo dovuto lasciarlo al canile. Si è ben curato. Si è ammalato in una settimana di un tumore fulminante. È morto. Questo è il risultato poi dell'abbandono proprio. Del territorio, del proprio ambiente. Ha sofferto più, diciamo... Le mie figlie sono scosse ancora adesso, sono addolorate ancora adesso per questa perdita. Qualcuno ha detto, ma è solo un cane. Era il nostro cane. Certo. Era con noi da 15 anni. Dove vive lei adesso, scusa? Io vivo con mia figlia. Avevo preso un appartamentino perché la mia nipotina non doveva vedere tutte queste cose. E l'ho tenuta fuori. Quindi avevo preso questo appartamentino in affitto. Avevo trasferito un po' di mobili lì. E adesso vivo lì. Comunque hanno voluto punirmi. Ci sono riusciti. Ho perso una battaglia. Ma non ho perso la guerra. C'era il telefono Luca che era presente il giorno dello sfratto. Proviamo a sentirlo perché noi abbiamo un numero dove le persone... Ma prima di passare questo Luca al telefono, regia, io vado a presentare anche gli altri ospiti. Perché hanno storie importanti tanto quanto. Per esempio io, Pietro Menghini, che viene da Reggio Emilia, da Parma addirittura, è già stato due mattine nelle trasmissioni mie e poi ho detto vieni a raccontare anche la sera perché c'è un pubblico anche leggermente diverso. Io ho scritto sotto il tuo nome, ti do del tuo Pietro, fallito. Poi spiegheremo perché e per come. Poi abbiamo Dario De Nicolò. Dario De Nicolò, ragazzi, io ho scritto autotrasportatore rovinato dal fisco. Però che cos'era? Presidente della... Io ero presidente provinciale della Confartigianato di Trento, provinciale di Trento, del Trentino. Non è micio, micio, bau, bau, signori. Quante erano le persone che aveva... 11.700 associati, oltre ad aver fatto anche il presidente dei trasportatori, aver percorso per 20 anni l'associazione, anche a livello nazionale, essendo che io, siccome facevo trasportatore internazionale, ero l'unico esperto per le problematiche di attraversamento degli stati europei. Dario De Nicolò, quindi viene da Trento. Da Trento, sì. Quindi questa è un'altra storia che ascolterete questa sera, ma ce ne sono, ragazzi. Un'altra è quella del signor Silvio Buttiglione, che stavo adesso... Un attimo al telefono, un attimo, devo presentare gli ospiti prima. Che leggo, ex imprenditore, sono rimasto solo, condannato a morte da banche ed equitalia. Ecco, facciamolo vedere. Franco, fai un primo piano di quello che ha scritto il signore Silvio Buttiglione, un cognome anche molto importante questo qua, quindi ci ricordiamo di Buttiglione, è parente... Ma non c'entra niente. Non c'entra niente. Da dove viene lei? A Montesilvano, Pescara. Pescara. E poi racconteremo anche questa storia. Ecco, vengono anche da lontano, vero Luciano Dissegna. Luciano Dissegna è quello che è tributarista, insomma, di professione, ma è quello che mi ha dato una mano a raccogliere, anche ad unire questi personaggi che io ringrazio immensamente, Luciano, che è sempre pronto a darmi una mano, insomma. Quindi così lavoriamo noi, non siamo la RAI. Come il metano. Ecco, noi non siamo la RAI, noi siamo persone che lavoriamo col cuore perché vogliamo affrontare i discorsi seriamente, facciamo capire e facciamo parlare, facciamo parlare le persone e far capire alle persone che sono a casa. E' così, Luisa Catellani? E' così, sì, certo. Luisa Catellani è la presidentessa, per esempio, ma diciamo presidente. Presidente, sì, assolutamente. Se no diventiamo un baudrignano. No, 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 assolutamente presidente. No, assolutamente, proprio. Per l'amor di Dio. Lei la Zeta. Dio ce ne salvi e guardi, guardi. Proprio. Che vengono buttate, cacciate a calcio nel senere dal popolo, dalla porta e poi entrano dalla finestra. Questa è la vergogna dell'Italia fino a ieri. Vedremo da domani a questa parte, domani è la festa della Repubblica e quindi vedremo che cosa accadrà. Luisa Catellani è presidente dell'Associazione Imprenditori Emiliani. Questo è il nostro parterre, questo è il nostro gruppo, questa è la squadra di questa sera. Ascolteremo, ne ascolteremo delle belle. Luca. Sera a tutti. Volevo ringraziare per avermi messo in diretta. Volevo salutare tantissimo il signor Bramini perché mi conosce molto bene. visto che sono stato tre per tre volte con lui e a sostenerlo per quello che gli hanno fatto lo Stato. Perché lo Stato non può non pagare un suo fornitore. Perché se lo facciamo noi persone normali, alla fine della fiera ci fanno causa e noi dobbiamo pagare il doppio. Noi fanno causa, subendono le banche che sono sempre a favore dei più forti. e ti fregano le case. È successo anche a parenti miei stretti, miei vicini. Non una, due case. Perché se metti una firma, come si dice, di... Di garanzia. Di garanzia. Prima fregano la casa a quello che non ha pagato. E poi, chi ha firmato il garante, caro amico Luca, va lì e dice Eh, vi do i soldi perché se non paga lui, ve li do io i soldi. No, 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 no. Perché devono fottere, scusate il termine, la casa anche di quest'altro. Questa è la storia. Questa era la storia. Io non ho paura, ho messo la mia faccia e non ho paura di nessuno. Io ho sempre detto, ho 27 anni, mia moglie ne ha 26. Faccia conto che stiamo litigando per chiedere su un prestito piccolo, perché noi stiamo parlando di piccoli prestiti, di 50 mila euro per portare avanti la nostra azienda. E invece cosa ci dicono? Siete troppo giovani, non avete garanzie, se volete avere garanzie dovete mettere una casa, se volete qualsiasi cosa dovete avere garanti. Io voglio capire una cosa. Noi saremmo il futuro dei nostri figli, che gli possiamo dare un lavoro e tutto il resto. Come faremo a mantenere i nostri figli se neanche noi adesso come adesso lavoriamo o non ci fanno lavorare? Anzi, andrei all'estero che mi aprirebbero miliardi di porte. No, no, sinceramente io sono italiano, voglio restare in Italia e non mi interessa andarmene via. Va bene. Però guardi lei. No, no, Luca, lei si è espresso molto bene, abbiamo capito bene anche il suo problema, il suo tema, quindi la ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione, grazie infinite per aver raccontato la sua storia. e noi siamo qua perché tutti possono raccontare in maniera dettagliata, con tranquillità, senza baruffe, senza voci che si ammassano, come succede in altre tv, in altri programmi, dove la gente dice vabbè che cosa hanno detto, non ho capito niente perché c'è una voce sull'altra. Noi invece permettiamo a tutti di raccontare qual è la verità. Le solite promesse politiche, in Italia il peso del fisco e l'oppressione fiscale stanno debordando, sembra di più disorientando, non solo i contribuenti ma anche gli addetti ai lavori, come i CAF, i commercialisti, gli esperti dell'associazione di categoria, e perché presto detto abbiamo un sistema fiscale astruso più che complesso, contraddittorio e poco trasparente, fatto apposta per indurre in errore e poi punire in modo eccessivo, con tassi da usuraio. La grande maggioranza di chi è colpito dal fisco in Italia è costituita da vittime di un fisco arcaico e spesso indecifrabile, che in questi ultimi anni ha fatto aumentare in misura esponenziale il rischio di commettere errori formali a seguito di un ingorgo normativo che non ha uguali nel resto del mondo. E allora, tanto per farvi capire, e poi andiamo a parlare con Buttiglione, ci sono stati tantissimi anche personaggi che hanno subito sfratti, persone che sono stati assaliti proprio dal fisco dello Stato, grandi personaggi, grandi artisti che poi hanno fatto questa fine. Guardatelo con attenzione, ma tanto perché voi a casa possiate avere un esempio che nessun'altra televisione vi dirà, ma ve la diciamo noi in esclusiva. Vai regia! Mi sono trovato un momento un po' in difficoltà. Ci si dorme qua, ci si dorme qua. Ci si dorme qua. Non avevo i soldi per far da mangiare, quindi il panettiere, il salumiere, l'ortolano, mi davano le cose senza chiedere. Un po' uno spettacolo del genere, io volevo dire dall'emozione, non trovo le parole. Non come ti sei fanno. a me dai che sta a scalarci il vino a mani luna. Che mi fanno? La Bernarma! Persi 40 milioni di lire su un cavallo. Ecco, alcune persone se lo meritano, altri meno, insomma. Abbiamo fatto vedere, diciamo, il buono e il cattivo, colui che si merita, colui che non merita. Questa è la situazione. Chi non meritava è questo signore. Vuoi raccontare in breve la sua storia? Guardi, racconti non a me, ma alle persone che sono lì. Quella è la telecamera, numero 4. Guardi lì e dica. Mi sarà difficile... Prego. Mi sarà difficile riassumere ciò che ho vissuto in questi dieci anni. Ci provo, sperando di spiegare ciò che accade a un piccolo imprenditore che ha avuto solamente la disgrazia di essere onesto in tutta la sua vita. Io avevo un centro di distribuzione di profumi, più profumeria al dettaglio. I miei affari andavano bene. Avevo creato un marchio, frequentavo le fiere internazionali, quindi ho dedicato tutto il tempo della mia vita, trascurando anche vedere crescere i miei figli per il lavoro, perché volevo dare a loro un futuro migliore di quello che ho vissuto io da ragazzo. Quindi, per riassumere tutto, c'erano gli anni che avanzava la crisi. In Emilia-Romagna, dove io lavoravo, la crisi arrivò in ritardo rispetto al resto del paese, perché l'Emilia-Romagna aveva una grande cassaforte per per gli aiuti sociali e quindi ha tenuto colpo rispetto alle altre regioni d'Italia. Però è arrivato anche lì essere travolti dalla crisi. In poche parole, io mi trovo qui dopo aver perso tutti i 30 anni della mia vita dedicata solo al lavoro e cercando di essere onesto e l'ho gridato per le strade d'Italia, l'ho gridato nelle tv, perché io sono onesto. Nessuno mai ha smentito quello che io ho detto, pur facendo nome e cognomi di chi sono i disonesti. Per me, per lo Stato invece, sono gli onesti quelli che continuano a massacrare i piccoli imprenditori. In pratica, io avevo un piccolo fido, tutto è dato origine da una banca, il credito di Romagna, faccio anche i nomi perché nessuno mi querela, perché altrimenti gli faccio una controquerela a questi signori, perché sono atti del tribunale. Questi sono atti del tribunale. Cioè, in pratica, questa banca mi chiuse il conto senza darmi la possibilità di neanche avvisarmi. io l'ho saputo solamente quando un pomeriggio mi chiamò il notaio dicendo che se non andavo a pagare degli assegni che aveva presso di sé avrebbe levato il protesto. E io, cioè, mi sembrava una cosa così assurda. Assegni, quali assegni? Assegni che io... Risevuti da clienti? No, no, i miei assegni, i miei assegni verso i miei fornitori. In pratica erano assegni di questa banca che mi aveva chiuso i conti senza darmi nessun avviso. L'avviso me l'ha dato dopo. Dopo mi ha mandato una lettera dicendo che devo rientrare immediatamente dal fido. Io sto parlando di 49 mila euro, non sto parlando di 500 mila euro, va bene? 49 mila euro. Io avevo 23 padri di famiglia che lavoravano con me, va bene? Che eravamo proprio una famiglia perché il tempo che io dedicavo alla mia azienda era superiore a quello che dedicavo alla mia famiglia. E quindi eravamo, io li chiamavo figli, collaboratori, mi chiamavano papà, non mi dicevano signor Buttiglione, mi chiamavano papà addirittura. Perché eravamo una famiglia, quella è la mia seconda famiglia, va bene? Allora questi signori che hanno fatto, in pratica mi hanno chiuso il conto. Io correvo a notaio a pagare gli assegni per non elevare il protesto, poi andai a parlare con il direttore e lui disse guarda, io non lo so, è la direzione centrale che ha provveduto a fare questo. E io gli disse allora vogliamo ragionare come rientrare dal fido e deve rientrare immediatamente. Mi devi dare almeno qualche giorno, una settimana per poter rientrare perché i soldi miei sono investiti. Non era previsto questa cosa qui. Io avevo fiducia in voi. In poche parole io ho cominciato a svendere le merci per poter far pagare gli assegni. nonostante che io mandavo la mia segretaria per fare i versamenti e pagare degli assegni che loro avevano in cassa loro trattenevano i soldi e mandavano l'assegno a notaglio e io correvo di nuovo a notaglio per non protestarmi. Io ho dovuto chiamare la polizia in filiale per dire io ho questi soldi loro hanno il mio assegno in cassa io voglio l'assegno che loro hanno in cassa. Va bene? Vicino ai poliziotti mi hanno fatto il dos des mi hanno dato gli assegni e io ho potuto non andare di nuovo a notaglio perché poi a notaglio si pagavano le spese che sono del 10% questa è tutta una mafia è tutta una mafia allora alla fine mi chiamano altre banche dicendomi cosa hai fatto e io dicevo guarda io non ho fatto niente è stata questa banca Credito Romagna che all'improvviso mi ha chiuso il conto parlandomi di cose che io non conoscevo lo scoring si è abbassato l'asticella io sono emerso da queste cose qui cioè io non lo so che cosa però non mi date il tempo di poter rientrare e sto cercando di pagare tutto pur di non protestarmi dice no lei è entrata nella centrale i rischi perché gli hanno pignorata la casa la casa corri di nuovo a questo direttore un giorno cioè si nascose nel bagno nel bagno io bussavo dietro a dire esci fuori spiegami che cosa sta accadendo non dirmi la direzione centrale non dirmi cose che non esistono che io non posso parlare beh alla fine anche le altre banche come effetto domino deve rientrare chiudono i conti eccetera la prima casa per ridurre tutta la mia storia perché è mortificante la mia casa andò all'asta andò all'asta chiaramente una casa che ho fatto tanti sacrifici io l'ho per i miei figli perché è una casa su un parco io siccome li portavo sul parco da piccoli dice quando mi piacerebbe avere una casa sul parco e tenere i miei figli che crescono lì sul parco eccetera con la casa viveva anche mio figlio mio figlio che nonostante io abbia detto al boss d'equitalia che anche lui ha evasso il fisco per 2 milioni di euro poi chiaramente ha scudato con la legge che i soliti politici fanno ha scudato questi quattrini qua quindi non è evasore lui non è evasore alla fine cos'è accaduto è accaduto che le altre banche non potevo più lavorare e quindi io per poter pagare andare avanti oltre a svendere le mie merci quindi non mi sono più dedicato alla mia azienda ma il terrore di non protestarmi non protestarmi per me era una cosa era un disonore protestarmi e alla fine che cosa è accaduto che ho chiesto i soldi a chi non bisogna mai chiederli e così e così ho distrutto tutto e alla fine ho visto crollare tutta la mia vita tutta la mia vita tanti anni che cadevano strantumavano uno dietro l'altro i sogni poi pensavo ai miei figli e un giorno mi sono ritirato la casa dove l'ultima casa che è andata all'asta è perduta non ho più niente cari signori miei il giorno 18 la casa di Monte Silvano e lì ho cercato una risposta ai miei perché perché per cosa ho fatto di male io non trovavo cosa abbia potuto fare di male per meritarmi questo io ho sempre pagato lo Stato ho sempre pagato l'ho anche denunciato anche ciò qua tutto che poi alla fine i signori di Equitalia che dicono che non pignorano la prima casa hanno pignorato la prima casa quella di Monte Silvano hanno pignorato poi mi facevano le smentite quando andavo in tv noi per legge non possiamo pignorare la prima casa allora io dovevo andare in tv a dimostrare vedi come oggi porto queste cose qui con un fascicolo così la verità sono nel procedimento sono nel procedimento qui c'è scritto Equitalia perché dicono cose mi fanno passare per un malfattore uno che dice la bugia e allora a quel punto io quella sera lì ho cercato di spegnere il mio dolore perché non ce la facevo più perché poi mi sentivo solo abbandonato come se tutti i miei erano nemici anche dalla famiglia si senteva abbandonato e allora e allora è stato un attimo ho preso tutte le medicine che avevo nell'armadietto avevo attentato il suicidio e alla fine mi sono tagliato la gola i polsi e sono sceso per strada poi chiamai la polizia per dire il gesto che aveva fatto e chiedo scusa ai miei figli e niente volevo buttarmi un bidone nella spazzatura però svenni prima di buttarmi poi grazie al signore ci furono due poliziotti questa centralinista della polizia mi trattenne 20 minuti per sapere dove fossi io non gli dissi niente poi mi trovarono questi due angeli due poliziotti che con i lacci dei scarponi mi fermarono l'emorragia e di lì poi ho dovuto subire TOSIO perché uno che fa quel gesto no la società dice che è un pazzo malato mentale io ero una persona sana sanissima era è una persona sana quindi alla fine ho subito questi TSO mi sono curato e quando ho ho finito di curarmi ho deciso di girare per l'Italia con dei cartelli questo è quello che avevo scritto per tutta l'Italia per far sì riprendiamolo per far sì che tutti quanti no io ho cercato di scoprire questo velo un velo dell'ipocrisia perché lo Stato nascondeva tutti i suicidi che accadevano in quel periodo perché dimostrando che lo Stato aveva fallito in uno Stato dove degli imprenditori degli artigiani dei commercianti si suicidano significa che lo Stato ha fallito facciamolo vedere meglio regia ecco fallo vedere intanto prendo questa telefonata c'è Massimo da Milano che vuole testimonare qualcosa pronto? sì pronto buonasera buonasera io chiedo perdono ma sono fatti veramente molto forti e che tutti devono ascoltare e capire con molta attenzione e persone oneste serie buone dedite alla famiglia che si vedono così frantumare tutto quello che è stato no? il sudore della fronte il sudore il lavoro i sacrifici di una vita intera a crollare per colpa di questi gran figli di Mignotta e non guardi io riesco a dirlo perché non sono la RAI sono Vito Monaco di Canale d'Italia figli di gran puttana di servi del potere che vogliono rovinare famiglie per impossessarsi di questi beni materiali vergognatevi e questi vi faccio sì perché ho questi pochi istanti perché non avrò più possibilità no no c'è almeno le 11 questi signori della banca no? poi sono stati commissariati arrestati tutti quanti tutti tutti per falsi bilancio evasione fiscale riciclaggio di dinaro sport però intanto ha rovinato lui questo è il problema intanto lui è stato rovinato loro stessi i soci avevano fondato questa banca a Rimini e avevano fondato un'altra banca a San Marino e quindi facevano queste toglie di qua e porta là porta di qua e porta là i soldi del nero ma non che stanca a me se avessi del nero l'avrei portato a San Marino e avrei pulito tutto avrei appreso un fido in Italia pari alla somma che avevo versato e in più siccome in Italia pagavo pagavo gli interessi passivi butigliano sono in galera questi signori? no arrestati rilasciati condannati patteggiate la pena pena sospesa loro stanno lì a lavorare io sto qui no che la mia vita non vale più un centesimo perché ho perso l'ultima casa l'ultima cosa che ho ma non è che è finita la mia storia non è finita perché questi signori che hanno svilito la prima casa la seconda casa l'hanno svilita così tanto da far venire un'orda di sciacalli a giudicarsi la casa all'asta io sono ancora debitore verso di loro sono ancora debitore perché questo bene non riesce a soddisfare il loro bene e questa è un'ingiustizia perché se io ho perso tutto ciò che avevo lo Stato non mi deve perseguitare io sono andato a un giudice a un giudice a dire io non ce la faccio più io voglio che voi trasformate la sanzione in pena le mie sanzioni io voglio passare andare in carcere però poi voglio essere libero non dovete perseguitarmi il giudice lo sa che mi ha detto ha detto che non è possibile perché questa legge qui è al contrario funziona al contrario che chi ha commesso dei diritti se un delinquente va in carcere può chiedere di pagare per uscire mi ha detto questo mi ha detto mentre una persona onesta invece deve essere perseguitata non può dire io voglio andare in carcere perché non ho più soldi come faccio a pagarvi come faccio mi hanno pignorato io dopo aver passato la fame e non mi vergogna a dire io sono arrivato a toccare veramente la cosa più bassa della terra va bene andando a chiedere alla Caritas un pacco per i vivere io ho dovuto mandare mio figlio via da casa mia perché non volevo vedere come stavo soffrendo va bene un figlio che è malato di sclerosi multipla allora io dico questo e ora ai signori che stanno a governo al signore a Luigi Di Maio che io voglio ringraziare perché presentai a lui una proposta di legge per evitare i suicidi lui l'ha presentata l'ha depositata però adesso che è al governo la deve tirar fuori e farla approvare questa proposta di legge per evitare che molti imprenditori commercianti soli abbandonati trovano l'idea del suicidio io sono stato fortunato sono un sopravvissuto e sono fortunato abbiamo capito bene e allora non bisogna mi faccio l'ultima cosa ma c'è tempo fino a riuscire perché devo ascoltare anche gli altri ai miei colleghi scusatemi poi vado via no 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 io capisco la cosa però io voglio farvi capire non c'è possibilità io sono stati dei miei ex fornitori che mi hanno detto ti diamo quello che vuoi ci paghi quando vuoi l'importante è che tu ti riprendi mi avevano convinto a ritornare a fare ciò che ho sempre fatto nella mia vita lo sai cosa io sono andato per chiedere i documenti eccetera non potevo più fare la mia attività perché ci voleva il DURC eh sì il DURC ha fatto male andare da quelle persone che l'hanno spolpata viva però allora Massimo da Milano è così? c'è ancora? sì sì ci sono ha sentito che storie mi dica tutto Massimo sì siate rapidi tutti perché devo ascoltare anche le storie degli altri amici qua certo prego certo niente io sono un piccolo imprenditore di Milano 54 anni 30 anni di lavoro per acquistare delle case per ristrutturare dei miei figli e così a seguito di una separazione mi sono trovato in difficoltà e poi va bene qualche cliente che non ha pagato banche che hanno chiesto interessi non dovuti con le quali tra l'altro sono anche in caso una di queste è la popolare di Vicente e così via di fatto avevo delle case adesso me ne hanno ignorate tutte e stanno per sbattermi fuori dalla mia ultima attività dopo sinceramente non saprò cosa fare per carità io sono comunque figlio di artigiano sono un artigiano vado vado avanti la grinta non manca però come diceva il signore precedentemente è tragica questa cosa perché una casa che era stata pagata a 650.000 euro è uscita a 238.000 grazie Massimo grazie per questa Catellani prima di sentire lei sta tenendo a bada tra virgolette no? questi imprenditori emiliani terra rossa ahimè anche lei è rossa? no no meno male no no assolutamente qual è la situazione degli imprenditori? allora io innanzitutto mi sono fondato questa associazione imprenditori emiliani a seguito visto che a seguito di un accertamento insomma che in famiglia due veramente secondo nella disperazione ho cominciato a capire insomma grazie anche a chi mi ha difeso ho cominciato a capire come funzionava questa macchina che c'era qualcosa di estremamente distorto mi sono resa conto che però tutto un settore tutto un tessuto sociale era stato preso sotto in questa situazione era stato colpito e questi piccoli imprenditori questi artigiani venivano impoveriti molti indebitati e venivano ridotti veramente in una situazione estremamente difficile quindi mi sono sentita in dovere grazie a Dio io nell'ultimo accertamento insomma sono riuscita a superarlo positivamente e mi sono sentita in dovere di mettermi in gioca e fare qualcosa per per chi sostanzialmente non era fino a quel momento consapevole di queste distorsioni di questo malfunzionamento di questa macchina perché sono tutti accertamenti presuntivi quindi questi artigiani vengono colpiti richiedendo praticamente di pagare imposte e sanzioni sutili che non percepiscono perché è tutta una presunzione e così vengono portati veramente in una situazione difficilissima talvolta non hanno nemmeno i soldi per chiudere l'attività perché non hanno i soldi per dare il TFR ai dipendenti e sono in una situazione sempre più difficile e continuano sempre a lavorare finché possono ma economicamente dopo 40 anni di lavoro a volte a meno di prima sono così venuta a conoscenza di una situazione veramente tragica e di queste storie terribili che si sentono più o meno gravi eccetera terribili ma tante persone hanno guardato la corda tante volte sono arrivati uomini piangendo oppure padri di famiglia che dicevano ho tenuto in piedi l'attività per il figlio adesso che il figlio è grande non posso dargli il lavoro e si sentivano in colpa quindi io credo che a quel punto lì se sei consapevole della situazione o fai qualcosa e lotti oppure diventi complice cioè ti senti proprio chiamati in causa per fare questo sulla mia terra è una terra difficile poi per questo poi mi sono messa anche in gioco l'associazione politica ma personalmente mi sono candidata con il movimento 5 stelle col quale condivido questa battaglia e cerchiamo speriamo insomma vedremo chissà che sia veramente il cambiamento noi siamo tutti in attesa ma molto in attesa e molto attenti perché il compito nostro è quello di stare alla finestra osservare guardare compartecipare non tenersi mai a distanza perché bisogna essere vivi e a volte mi vengono delle parolacce perdono però sono sanguigno sono terrone ecco questa è la verità Luciano disegna e tu come fai ad avere questi collegamenti anche perché chi li ha tirati fuori chi mi aiuta ogni tanto a scovare questi fatti mi mette al corrente proprio Luciano disegna quindi riesci a fare anche da psicoterapeuta tu Luciano perché non è mica tanto facile avere rapporti umani con tanta gente perché tu eri eri un rappresentante del fisco non dimentichiamolo un dirigente ero addirittura un dirigente dell'agenzia delle entrate ma allora come fanno emergere questi casi io vorrei dire i trispettatori perché sicuramente vi sorprendo tutti se adesso ascoltate un attimo questo passaggio il signore che mi ha a fianco ha parlato di Equitalia la signora qui la presidente di imprenditori emiliani mi ha parlato di accertamenti allora non tutti sanno che gran parte dei crediti di Equitalia sono costituiti da accertamenti dell'agenzia delle entrate andati a vuoto ok ci siamo allora io io mi rivolgo a voi telespettatori fate una piccola riflessione a casa e provate a pensare secondo voi secondo gli elementi gli strumenti intellettivi che avete l'esperienza l'informazione l'informazione che avete e ditemi secondo voi quanti crediti inesigibili ha l'agenzia delle entrate ci siamo quanti inesigibili che non è in grado di riscuotere allora io ho provato stamattina sul lato del mio dentista e gli ho detto tu secondo te quanti crediti inesigibili gli ho detto però guarda spara alto gli ho detto spara alto e mi raccomando spara alto perché non ci arriverai mai lui mi ha detto beh secondo me ha un miliardo di euro di crediti inesigibili l'agenzia delle entrate cari telespettatori sappiate che i crediti inesigibili dell'agenzia delle entrate costituiti in gran parte da accertamenti andati a vuoto ammontano alla stratosferica immane planetaria non so come definirla apocalittica cifra di 800 miliardi di euro non di lire signori miei di euro frutto in gran parte di accertamenti presuntivi andati a vuoto ora dovete sapere che questo governo uscente quello di Renzi l'anno scorso quando hanno nominato il nuovo direttore dell'agenzia delle entrate al posto della Rossello Orlandia hanno messo Ruffini sappiate che Ruffini ha portato gli accertamenti contro le piccole imprese cioè il 90% degli accertamenti a carico di chi per il 95% sostiene l'economia nazionale anche in termini di occupazione li ha portati da 140 mila a 150 mila accertamenti quasi tutti presuntivi con il risultato che il 50 quasi il 50% delle verifiche conducono alla morte delle imprese signori miei se quei cialtroni miserabili anche dell'opposizione che stanno al governo tra virgolette del nostro paese e non si fanno carico di questa drammatica situazione sappiate in quali mani siete e continuiamo ad essere andati a finire e questo è il grosso problema devono farsi carico di questa drammatica situazione comunque c'è il governo del cambiamento finalmente aspettiamo aspettiamo quindi queste sono cose che potevamo dire fino a ieri quelli che dicono che ci hanno lasciato il il paese in ottima situazione quindi tutto sta a saperlo mantenere ciccio stiamo attenti se dovessimo mantenere il paese così come ci l'avamo lasciato siamo proprio alla frutta ma più al di là della frutta cosa c'è non lo so l'unica cosa adesso c'è nero no c'è la pubblicità altro che nero c'è la seconda fascia spot e non finirò mai di ringraziare questi signori che mi hanno dato la possibilità di fare questa trammissione e poi voglio farvi sentire i due personaggi il fallito Menghini perché fallito e poi questo signore che da presidente adesso fa il camionista un ottimo camionista un ottimo va bene non lo metto in dubbio chiedo perdono se ogni volta mi lascio ogni volta ogni tanto ogni volta mi lascio andare ma la storia di questo signore sentirla viverla in questo momento e non è facile insomma non è facile non so voi a casa come l'abbiate vissuta così non so se l'avete vissuta come l'avete vissuta io mentre mi raccontava allora l'ho definito fallito l'amico perché fallito cosa è successo ricordiamolo un pochettino allora io non ho avuto problemi di crisi non ho avuto problemi con le banche io ho avuto la sfortuna di avere un commercialista che si dimenticava di pagarmi le imposte e di pagarmi gli F24 e io non sapendo tutto quello che faceva o che non faceva l'ho saputo una mattina che ho avuto un controllo dalla guardia di finanza la guardia di finanza mi viene a dire che sono un evasore totale e da lì è cominciata tutta la disavventura mi hanno controllato tutto hanno trovato tutta la contabilità perfettamente tenuta solo che mancavano i versamenti e l'agenzia delle entrate erano anni che non riceveva più niente della mia attività quando l'agenzia delle entrate ha preso in mano la mia situazione sapeva benissimo che 40 o più dei clienti del mio commercialista avevano subito la stessa storia quindi erano più che certi che la responsabilità fosse del consulente la finanza stessa aveva comunque anche dichiarato sul verbale che io avevo la contabilità perfettamente tenuta quindi esortava addirittura l'agenzia a non infierire su di me in quanto non responsabile ma c'era scritto proprio che alle domande dei militari il consulente non ha mai negato le proprie responsabilità l'agenzia comunque come diceva prima il dottor Di Segna che non è preoccupata più di tanto di quello che è il giusto ma deve fare secondo me deve fare cassa siamo arrivati ad un si chiama un'adesione giusto in adesione mi hanno chiesto una determinata cifra che si aggirava attorno ai 70 mila euro da pagare entro 60 giorni io non li avevo quindi ho chiesto comunque alla banca che è stato un errore comunque che si avvicina un po' a quello che è stato l'errore del signor Bramini chiedo questo mutuo che mi è arrivato leggermente in ritardo rispetto ai 60 giorni l'agenzia delle entrate scaduti termini ha ritirato l'adesione e si è presentata successivamente con una cartella di equitalia di circa 200 mila euro oh signore questo importo creato comunque come diceva il dottor Bisegna dal nulla ma scusa se uno ha limite questione di testa se uno non può pagare 70 mila euro come può pagare 200 mila euro quindi non riesco a capire questo ragionamento probabilmente loro questo ragionamento non lo fanno anche perché il mio commercialista gli aveva comunque avvisati che poteva passare qualche giorno oltre il sessantesimo perché io avevo chiesto comunque il mutuo ero quindi disposto ad indebitarmi per onorare comunque quello che non era stato pagato all'agenzia delle entrate pur andando incontro a un sacrificio che comunque non mi aspettava tutto perché era comunque già carico di sanzioni che così a prima vista non mi aspettavano non essendo stato responsabile comunque quando mi è arrivata questa cartella di Equitalia nel frattempo mi era arrivato questo mutuo che mi consentiva di pagare i 70 mila euro mi avevo quindi la rata di appagare questo mutuo l'agenzia delle entrate mi ha emesso la cartella mi trovo i 200 mila l'unica soluzione è quella di rateizzare con Equitalia e il massimo allora nel 2009 erano 5 anni quindi no 6 anni 72 rate e i 200 mila che con gli interessi visto che Equitalia non fa prestiti però concede le rateizzazioni e ti fa pagare gli interessi i 200 mila erano diventati circa 234 che diviso per 72 faceva 3.100 euro al mese per 6 anni per la mia attività artigiano con un fatturato di 200 300 mila euro all'anno che tipo di artigianato era diciamo la tonneria montavo le grondaie ecco e ero riuscito ad avere anche un paio di dipendenti insomma un'attività che comunque mi stava bene mi dava da vivere avevo costruito avevo preso anche io la mia casa per i miei figli come tutti abbiamo fatto con la speranza di dare ai nostri figli qualcosa di più di quello che abbiamo avuto noi il sacrificio non era un problema e andava tutto bene fino a quel periodo poi comincio a pagare questi 3.000 erotti più i 1.000 dell'altro mutuo più c'era la famiglia più c'era l'attività più c'erano tutte le altre cose e naturalmente non faceva non riuscivo a far quadrare i bilanci sono riuscito ad andare avanti alcuni anni nel frattempo ho denunciato il commercialista perché potendo avere una sentenza che condannava per omissione il commercialista l'agenzia mi avrebbe dovuto scontare le sanzioni però così non è stato nonostante tutto mi è rimasto da pagare il tutto io non sono più riuscito l'equitalia ha cominciato ad aggredirmi i conti correnti i crediti verso terzi quindi praticamente ti uccide in questo modo sei fallito anche se non sei fallito il problema poi come diceva prima anche Silvio la famiglia con le grandi esigenze due ragazzi giovani meravigliosi pensi che mio figlio quando ancora andava a scuola l'ultimo anno lo ha fatto addirittura serale per potermi venire a dare una mano durante il giorno fantastico che non avrebbe potuto perché comunque sa com'è sarebbe stato un lavoro nero però comunque era una necessità avrebbe comunque mio figlio fatto l'università perché a scuola era anche bravo e non ha potuto per questioni di soldi e è andato a lavorare appena possibile per dare una mano alla famiglia la figlia è ancora giovane compie 19 anni quest'anno sta finendo anche lei i suoi studi e mia moglie anche lei con tutti i sacrifici abbiamo fatto fatica a mandare avanti la famiglia con tutte le sofferenze e naturalmente le discussioni e gli stati d'animo che stiamo comunque ancora superando ci siamo trovati che non avevamo più via d'uscita la banca pignora la casa anch'io la casa all'asta io non ho ancora lo sfratto perché sono riuscito attraverso delle manovre a mantenere qualche sospensione a cercare di rinviare sempre l'asta come possibile però sono candidato anch'io a questa fine finché finché ho anch'io buttato tutto all'aria il suicidio l'avevo pensato anch'io all'inizio poi sono riuscito anche lì lo psicologo mi ha aiutato va bene ho trovato la mail di una trasmissione televisiva le Iene si può dire come è successo al signor Bramini mi hanno contattato dopo un paio di mail mi hanno consentito di fare questo servizio il servizio che hanno fatto le Iene all'agenzia delle entrate è una cosa veramente indescrivibile come sono entrati all'agenzia delle entrate i funzionari sembrava che fosse un bombardamento tutte porte che si chiudevano scappavano addirittura il responsabile che mi aveva fatto lì certamente si è andato a nascondere dentro l'ufficio della direttrice non si è più visto non è più uscito dopo il servizio delle Iene guarda caso l'agenzia delle entrate ha promesso di ridare un'occhiata e il mio debito con l'agenzia delle entrate miracolosamente si è trasformato da 200 mila a 56 mila euro allora a quel punto mi ero sentito un pochettino ripreso ho combattuto un altro anno perché c'erano altre sanzioni che io ritenevo ingiuste alla fine siamo arrivati alla modica cifra di 28 mila e 600 nel frattempo io però ho pagato 74 mila euro se me li volete rendere io visto che non ho un centesimo ne avrei un grande piacere ma questo non è potuto accadere nonostante il tutto sono stati addirittura chiamati esortati addirittura anche da qualche magistrato diciamo comunque che gli ha detto c'è questa situazione cosa intendete fare mi hanno convocato e beh comunque si sono impegnati mi hanno comunque sotto mentite spoglie richiesto i 160 mila euro sgravati sì mi hanno offerto una rateizzazione che comunque andava a coprire grossomodo ancora quell'importo perché loro continuavano ad insistere che io avevo questo debito perché poi non avevo pagato quello ho chiesto i conteggi dieci volte non sono mai riuscito ad averli e la situazione oggi qual è no la situazione oggi allora io mi trovo in queste condizioni però io ho seguito un'altra strada sono riuscito a trovare dei ragazzi avvocati dopo aver girato il nord Italia il centro Italia sono arrivato a Napoli ho trovato questi ragazzi che leggendo le carte mi hanno detto sai che quasi quasi noi ci mettiamo in pista non mi hanno chiesto niente faremo i conti alla fine se tutto va bene abbiamo depositato in tribunale a Parma una richiesta di risarcimento all'agenzia delle entrate il 5 di febbraio ieri l'altro il 30 ho avuto la prima udienza e vedremo come va a finire insomma io spero che questi signori la paghino finalmente eh sì ho piacere è giusto ma la dovrebbero pagare anche personalmente anche perché quello che si soffre quello che sta dicendo il signore Buttiglione quello che ha passato lui quello che sentiremo da lui sono situazioni molto molto imbarazzanti in famiglia sentiamo un'altra un'altra testimonianza mi pare che sia Iole da Modena è così? pronto? pronto professor Monaco buonasera buonasera signora mi dica io sono la mamma di un usurato di un usurato che adesso le spiego in poco quello che è successo a noi avendo un'attività commerciale di monopolio in città la banca di appoggio ci ha mandato ci ha fatto l'usura che ha sfiorato il 41% fatto affare dal dal giudice a un loro una loro persone adesso ci fosse il mio figlio glielo direbbe io non so proprio perché ho il nervoso quando sento parlare di queste cose qua che le abbiamo portato il fegato a questa banca e adesso vogliono i soldi vogliono i soldi degli interessi che noi dobbiamo avere tanti soldi da loro perché loro facendo fare i conti da una nostra dottoressa di conoscenza eravamo in buono di una cifra molto importante va bene Iole abbiamo capito la ringrazio per aver testimoniato anche lei si fidi di qualche persona attenta che non sia qualche altro usuraio quando dovete chiedere aiuto chiedete a persone per bene a persone sane che hanno alle spalle un bel curriculum al presidente cos'è successo presidente sono qua mi siedo e voglio capire cosa guardi professor Monaco io sentendo tutte queste storie mi ritengo anche fra virgolette fortunato immagino vorrei premettere che io questo ambiente lo conosco bene e so benissimo e so benissimo che gli artigiani non hanno un'impresa non hanno una partita IVA hanno un figlio in più si taglierebbero via un braccio una gamba per la propria impresa perché 30 anni di lavoro di passione di impegno e dopo vedere tutto distrutto da un'agenzia dell'entrata usuraria questi sono usurai legalizzati e me ne prendo tutta la responsabilità di dirlo possono anche denunciarmi tanto io ho poco da rimettermi è uno stato canaglia perché uno io essendo che ero anche presidente degli artigiani perciò ero anche addentro a un mondo senatoriale che conoscevo bene perciò ho fatto fare delle interrogazioni al senato per questi problemi ma non è successo assolutamente niente tornando a me volevo dire io ho avuto un'impresa di trasporti internazionali per 33 anni 30 anni ho sempre guadagnato bilanci positivi apertura dei mercati nel 2005 dove io ero a Bruxelles e ho detto a 4 funzionari italiani che stavano facendo una immensa boiata boiata non volevo adoperare aggettivi troppo pesanti perché qua vabbè che non siamo in fascia protetta però va bene tranquillo tutto quello che si vuole alla mia domanda che gli dicevo ma voi state facendo entrare Polonia Romania Slovacchia Lituania dico ma come pensate che noi trasportatori perché il trasporto è il primo settore che viene toccato nel senso che non ha bisogno di un capannone di macchinari di preparare delle persone il trasporto quando viene liberalizzato si apre la frontiera vengono qua i camion io ho cominciato a soffrire dal 2005 da maggio del 2005 in poi ho cominciato a soffrire la mia impresa ha cominciato a decadere cosa facciamo gli imprenditori industriali del trasporto al 5 di maggio al 3 di maggio hanno aperto a questi paesi dell'est della nuova Europa la chiamano noi siamo la vecchia loro sono la nuova Europa sono partiti in flotta sono andati in Slovacchia tramite camera del commercio di Brescia con delocalizzazione in Bratislava abbiamo fondato tutte queste imprese di trasporto e allora anch'io essendo che ero nel settore dico ma come vanno tutti gli industriali anch'io sono andato convinto e certo che era tutto a posto assolutamente normale perché hanno fatto le stesse imprese con il stesso sistema per tutte le aziende invece dopo due anni arrivano otto finanzieri quattro a casa quattro in azienda con mio figlio che era in azienda e ci dicono che noi siamo estero vestiti e abbiamo la stabile organizzazione in Italia gli mostro i bilanci perché io pensavo di prendere un bravo dallo Stato italiano nel senso che io non fatturavo in Slovacchia fatturavo tutto in Italia le acquisizioni di camion in Italia pneumatici olio tutto acquisito in Italia e il bilancio la positività del bilancio in Italia in Slovacchia gli ho portato le dichiarazioni dirette erano tutte a zero perciò non ho evaso un centesimo morale della favola mi dicono che sono un evasore totale mi affibbiano una multa di un milione e trecentomila con un giro d'affari di seicentomila euro all'anno io mi ritengo e le ho anticipato prima e mi ritengo fortunata perché ho trovato dei consulenti uno dei quali Luciano Disegna che non è un mio consulente ma è un mio amico che ha preso a cuore questa mia problematica ma altri consulenti che mi hanno detto le strade da intraprendere perché non avrei vinto questa battaglia perciò io in brevissimo tempo nel giro di una settimana ho chiuso l'azienda ho venduto tutte le mie proprietà immobiliari e adesso delle lettere verdi che mi arrivano dall'agenzia delle tratte le adopero perché ho scoperto che nel caminetto vanno benissimo a accendere le fiamme regolarmente dal postino passa direttamente al caminetto e sono tranquillamente ho ripreso a lavorare perché io sono andato in pensione sono rimasto a casa un anno e mezzo ma non me la sentivo proprio perché mi sento ancora in forza allora piuttosto di suicidarmi per inefficienza ho pensato che è meglio che ricominci a lavorare e ho ricominciato a lavorare devo dire che sentire queste storie mi viene la pelle d'oca ma io la pelle d'oca mi viene tutti i giorni perché io sono un amatore di telegiornali e questo devo dire ai telespettatori e devo ringraziare lei professor Monaco perché veramente questa trasmissione è vicina alla gente è vicina alle imprese io guardo 7-8 telegiornali in tutte le fasi orarie tutti gli argomenti tutti uguali sulla 7 sulla 5 sulla 1 su Rai 1 Rai 2 ma è possibile che su 18 telegiornali ci siano tutti gli stessi argomenti in fila non è possibile siete l'unica televisione vicino alla popolazione purtroppo i finanziamenti capisco che in questo momento di difficoltà le imprese non riescono neanche per finanziarvi però veramente vi faccio le congratulazioni io quando sono a casa vi ascolto tutte le mattine ascolto lei e i suoi colleghi giornalisti e devo dire di essere molto soddisfatto dalla vostra trasmissione mi alzo contento faccio la colazione contento e questo è importante per me e questo è bello sentirlo anche perché noi ci mettiamo passione lo facciamo veramente per amore per hobby qualcuno dice chissà cosa prendono guardate che è quasi un volontariato il nostro lo dico sinceramente perché tanti lo sanno quindi non mi va di dire cose in pubblico a me basterebbe prendere un terzo di quello che prendono i giornalisti delle altre televisioni un terzo mi basterebbe vede e finisco professor Monaco quando vedo domenica scorsa il presidente della Repubblica Mattarella che dice che ha mandato a monte il governo perché tiene ai soldi degli italiani vorrei che il presidente Mattarella fosse veramente seduto sulla poltrona davanti a questa trasmissione ma non solo la vostra perché striscia la notizia la sette credo che abbiano fatto 60.000 trasmissioni su queste cose io chiudo perché se no dopo rubo minuti agli altri i miei colleghi sabato scorso ero al mercato di Firenze perché io adesso faccio il trasportatore di frutta al mercato di Firenze alle 6 di mattina in un angolo davanti al bar del mercato di Firenze c'è dove buttano tutte le cassette della roba tanta gente che va a prendere c'erano là una decina di anziani che raccoglievano tutti volevo andarla io con 20 euro e prendergli la frutta per questi poveri Cristi Gli Nicolò quante sono ste robe fotografi me li mandi poi le do in numero mio fotografi riprenda col whatsapp o con quello che vuole allora il charliere di Firenze che le facciamo vedere perché perché gran parte diciamo di merito di questo cambiamento che stiamo mi auguro che accada che ci sia questo cambiamento ce lo prendiamo perché abbiamo aperto fatto aprire gli occhi e le orecchie a tantissime persone che sono a casa e che ascoltano al mattino e mi auguro che qualcuno di questo governo saranno stanchi rappresentanti del governo abbiano ascoltato tutto quello no ragazzi voglio dormire voglio dormire e quindi poi voglio sentire ancora buttiglione per per completare la sua storia voglio dire che un po' siamo riusciti a sensibilizzare a far capire alle persone guardate che le cose devono cambiare altrimenti resteremo ancorati nella più sana povertà è uno che viene a dire che le cose è riuscita a risanare cosa si è riuscito a risanare figlio mio nulla 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 gentiloni cedi il campanello e va a dormire perché è tardi ormai dovrebbe lei avere tanto sonno è meglio che dorma però professor Monaco mi scusi un secondo stamattina ho visto le dichiarazioni di Di Maio di prima mattina sì allora io no non ho sentito nulla allora qua c'è la leggenda metropolitana che le aziende che hanno delocalizzato è per trombare il fisco le aziende delocalizzate hanno delocalizzato perché non ci sono più le condizioni per stare in Italia fiscali e contributive ma lo sanno ecco cosa dichiara stamattina Di Maio che vuole far rientrare tutti che la prima cosa da fare è punire le imprese delocalizzate no mi dispiace no ci sono agli atti la trasmissione no e perciò come primo passo è una grande e grossa delusione mi dispiace per lei e le posso garantire qui davanti ci informeremo 3-4 telespettatori che io il voto l'ho dato al 5 stelle ci informeremo non credo abbia pensato questo la prima cosa no ci creda dottor il professor Monaco tagliamo le tasse tagliamo l'iva l'iva non aumentarla per vabbè ne parleremo in un'altra trasmissione non è il luogo perché stasera voglio sentire queste persone e voglio farvi vedere quello che è capitato anche a Marco della Noce che era un grande comico di Zelig guardate come vive adesso tanto per farvi un esempio guardate mi sono trovato un momento un po' in difficoltà ci si dorme qua dal palco di Zelig al bagagliaio dell'auto e non è nemmeno una Ferrari se quando interpretava il capo meccanico del cavallino gli avessero detto che avrebbe finito per dormire in macchina Marco della Noce ci avrebbe riso su ma è vero che lei con quella testa non può stare sotto l'acqua calda più di 7 minuti se no diventa sciodo a quasi 60 anni il comico è sull'astrico a causa del divorzio rovinato da segni di mantenimento per i figli troppo onerosi non avevo i soldi per far da mangiare quindi non so il panettiere il salumiere l'ortolano mi davano le cose senza chiedermi sfratto pignoramenti la depressione in questo parcheggio di Lissone in provincia di Monza vicino al bar di Amici che lo aiutano della Noce racconta il suo dramma senza lavoro senza casa e senza famiglia diciamo mi è sempre piaciuto è un mio sogno io vorrei diventare mamma complimenti e domani mi vedo con gli assistenti sociali del comune e vediamo che cosa succede in attesa che la vita torni a sorridergli ora desidera diventare il paladino dei padri separati in difficoltà voglio essere la voce di questi papà ecco almeno do un senso perché non è facile esporsi raccontare la tua vita vera chi stava tentando di subire un'altra indegna azione da parte di questi signori è il nostro amico Cesare De Stefani ma voi sapete già la storia però tanto per farvi ricordare per farvi mente locale vieni 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 pure carissimo ecco ricordiamo un attimo quello che è successo a Cesare De Stefani beh sì un accertamento folle incredibile la fortuna che ho conosciuto ho incorrociato Luciano proprio nel momento disperato della mia vita che poi era anche quello che sentivo da questo imprenditore che ha parlato prima che diceva Buttiglioni che arrivi ad un punto che non vuoi più vedere nessuno non ti fidi più di nessuno hai paura di tutti anche perché purtroppo ahimè gran parte anche del mondo professionale della difesa tributaria anziché come dico io mettere il coltello tra i denti e difendere coloro che li pagano si mettono invece a fare gli intermediari fra una pretesa inutile dello Stato e l'imprenditore che è disperato per cercare di salvare la casa cerca di trovare una soluzione quindi ti senti proprio abbandonato perché ti trovi schiacciato dallo Stato ti trovi da solo ti trovi che io dissi a quei miei primi professionisti che io non cercavo degli intermediari io commercio in carne quindi so benissimo qual è il ruolo dell'intermediario ma cercavo coloro che mi difendevano e poi ho ascoltato molto attentamente queste loro testimonianze e in una di queste ho rivisto anche la protesta che ho fatto io quando ho portato la mucca per pagare una multa la multa non era di una cifra la prima multa era di diversi milioni di euro mi avrebbe portato al fallimento ma poi stando al fianco di Luciano ho imparato anche come difendermi ho ripreso coraggio e quindi ho detto qui ci si deve opporre e per una multa di 1750 euro che sembra anche irrisorio io ho fatto una protesta ho fatto una protesta perché non conoscevo Buttiglione ma ho immaginato cosa può succedere anche per 1750 euro lo Stato dei funzionari dello Stato mi avevano con un pretesto dato una multa di 1750 euro alla quale ho voluto reagire perché perché quella quella norma prevede che o paghi o ti diventa penale e allora io mi son detto ma com'è possibile se uno effettivamente i soldi non li ha lo Stato ti indirizza verso gli usurai e quindi ho reagito e ho portato una mucca in pagamento per creare un po' di clamore per catturare l'attenzione anche perché ahimè coloro che mi avevano sanzionato percepiscono un guadagno personale che viene prelevato dal fondo alimentato dalle sanzioni quindi in conflitto di interesse incredibile non è possibile che dei pubblici funzionari possano trarre vantaggio dalle sanzioni che emettono quindi non ne viene più una discussione di prevenzione o di ragione ma un interesse personale e ahimè anche se in modo diverso per certi versi anche l'agenzia delle entrate funziona in questa maniera non prendono una percentuale ma in base a quanto si accanniscono poi ottengono promozioni avanzamento di carriera non dimentichiamo che ci sono ben 850 dirigenti funzionali dirigenti dell'agenzia delle entrate che lo sono per nomina e non per concorso e vengono naturalmente nominati quelli che sanno aggredire di più il tessuto produttivo non voglio prendermi diciamo come è andata a finire beh è andata a finire che proprio ringraziando Luciano la multa di diversi milioni di euro sono riuscito appunto a vincela a evitarla e quella delle mucca anche lì me ne sono uscito vincitore però ahimè costa moltissimo costa difendersi costa energia e bisogna trovare il coraggio di reagire ti chiedo ancora un istante perché c'ho ancora il sangue avvelenato per una lettera che mi è arrivata oggi dall'associazione dei commercianti qui abbiamo un rappresentante degli artigiani però sempre un'associazione sempre un sindacato di categoria della quale naturalmente chiarisce che dal primo di luglio non si potranno più pagare i dipendenti in contanti sembra che oggi maneggiare contante sia diventato una vergogna mentre vi ascoltavo prima pensavo invece che i nostri nonni i nostri genitori dicevano se noteva via Codoschè in Scarsela sta a casa i soldi secondo me sono anche un principio di libertà invece nella comunicazione che proprio oggi mi è arrivata dalla associazione di categoria dei commercianti spiegano che questa norma che non si potrà più pagare i dipendenti in contanti è a tutela dei lavoratori per toglierli dalla soggezione e da pressioni che potrebbero ottenere dal datore di lavoro io mi chiedo quale ragione più imbecille si poteva giustificare e non mancherò anche su questo di porre la mia polemica perché in realtà in questo caso stiamo facendo un favore non ai lavoratori ma ulteriormente un favore alle banche perché si vedranno confluire del denaro che terranno in mano per alcuni giorni finché le persone faranno un prelevamento a tasso zero io ho mia moglie che lavora in una mia società perché non la posso pagare in contanti e comunque quale soggezione subisce un lavoratore se prende i soldi in contanti voglio concludere oggi sembra che fare imprenditore essere solo ladri e disonesti avere del contante e solo essere dei disonesti dei ladri io veramente non ci capisco più e veramente confido in questo nuovo governo c'è veramente una forte speranza di cambiamento di cambiamento e che diano ascolto a questa disperazione che appartiene a coloro che lavorano rischiano perché l'imprenditore rischia e lavorano moltissimo sono il tessuto che tiene in piedi in questo paese grazie Cesaro Di Stefani ecco un applauso se fosse lo faremmo la regia preparatevi gli applausi finti preparatevi e così facciamo vedere che anche noi siamo presenti le do ancora cinque minuti non di più perché le ho fatto raccontare tutto ecco ancora messaggi con la famiglia come vai innanzitutto posso chiederglielo è lecito se no mio figlio dopo avergli fatto credere che la casa veniva salvato grazie a delle promesse di taluni che poi non l'hanno mantenuta mi ha mandato al diavolo è andato via si è allontanato da papà perché chiaramente lui per la sua malattia era già pessimista no perché diciamo la natura non l'ha fatto vivere sin dall'infanzia una giovinezza serena e poi io che gli ho fatto credere sempre che bisogna combattere non bisogna mai arrendersi e poi i risultati vengono cioè prima o poi vengono e io ho tenuto duro per 10 anni mantenendo alto la mia dignità e cercando di difendere l'ultima cosa che avevo la prima casa e purtroppo il giudice non per colpa sua ma per il giudice questo però il figlio avrebbe dovuto capirlo l'ho perso comunque e no quello che voglio dire cioè perché a volte uno dice perdere la casa all'asta può dire tutto come non può dire niente l'atrocità che avviene nel periodo in cui no la casa va all'asta se esiste una famiglia all'interno dell'abitazione deve subire lo stupro della propria dignità perché vengono questi sciacalli che pur sapendo che lì dentro ci sono c'è un dramma ci possono essere malati terminali le croniche le hanno detti di tutte malati terminali si avvicinano questi sciacalli perché approfittano che hanno un po' di soldi che non si sa mai da come si sono fatti questi soldi per entrare nelle abitazioni come se fossero già padroni l'ho subito io in questo periodo prima dell'asta che entravano come se fossi padroni di casa addirittura toccavano alcuni oggetti e io mi sentivo violato però non potevo intervenire perché ero custode altrimenti il delegato mi avrebbe fatto lontanare dalla mia abitazione perché io non dovevo fare nulla eppure questi qua si divertivano a chiedermi poi si fermavano a guardare i miei oggetti personali violenza psicologica è una tortura cioè chi non lo vive non può capirmi non può capirmi a me veniva voglia l'ultima una dei tanti che in quel momento volevo mettergli le mani alla gola e non farlo respirare più perché mi stava mi stava torturando all'interno perché voleva vedere di nuovo il bagno e io ho detto lì l'ho fatto vedere e volevo entrare nel mio bagno mi ha fatto aprire la tapparella piccola e poi la finestra no volevo vedere il panorama dal bagno tu vai a io dicevo Cristo uno va al bagno vuole vedere il panorama dal bagno io dovevo stare lì a subire tutte queste torture tutte queste torture nonostante che io con gli occhi gonfi di lacrime gli dicevo guardi che probabilmente parteciperò anche io all'asta perché sto raccogliendo dei fondi non lo so però io questa casa non la voglio perdere e uno dei quali che disse non si preoccupi e la moglie mi disse anche buona fortuna è stato quello che l'ha acquistata chi è? quella che l'ha acquistata normale e allora io dico questo che bisogna anche mettere io non so Sergio cosa farà con i 5 stelle eccetera però bisogna andare a fondo nel discorso delle aste perché c'è un malaffare un malaffare è vero e mi rivolgo anche per quando riguarda l'Emilia io parlo di Rimini soprattutto che ci ho vissuto 24 anni che c'è l'innominato viene chiamato che è un notaio che caso strano la figlia è un giudice dell'esecuzione dell'asta e sto notaio all'epoca si aggiudica 40 appartamenti all'asta però era l'innominato lo conoscono nella politica nessuno l'ha potuto toccare questo l'innominato non parte allora facciamo una cosa adesso sentiamo di segna cosa ha da dire io dico a Salvini Di Maio perché sono loro io mi auguro che qualcuno abbia detto seguito quella trasmissione questa sera che abbiano capito quali sono le situazioni ma non soltanto di questi miei ospiti sono milioni di persone in Italia che stanno subendo queste torture queste angherie quindi si faccia un qualcosa una legge subito per salvaguardare questi cittadini che fondamentalmente sono persone oneste lavoratori vittime di questi balordi sanguisugue che rappresentano le banche italiane o no 500 mila sfratti 132 mila della prima casa questo fomenterà un odio perché se lei moltiplica per almeno quattro persone ogni famiglia ci sarà un milione rotti di persone che cova dell'odio per queste motivazioni per quello che lui ha dovuto subire ma che governo abbiamo avuto in questi anni e che io ho dovuto subire con la 560 dove la mandano fuori se lei ha un disabile un minore o un anziano in casa e la mandano fuori prima perché ha più valore stagire l'asta se non c'è nessuno ho saputo che farai consulente a Salvini Di Maio certo gliel'hanno promesso sì me l'hanno promesso quindi aiuterà a salvare queste situazioni mi spaccherò i 4 ecco di guardare bene ma lo faranno loro abbiamo già mandato una bozza attenzione ecco però se non lo fanno loro ragazzi noi possiamo metterci tutta la buona volontà ma chi ha il potere in mano sono loro noi possiamo fare trammissioni possiamo denunciare possiamo gridare urlare 420 la situazione degli italiani che è questa di tantissimi però sono loro purtroppo quelli che hanno il potere in mano di segno cos'è che voleva dirmi no volevo aggiungere rapidamente qualcosa a quello che ha detto De Nicolò il quale notate bene è stato accusato dall'agenzia di entrate di avere evaso 1.300.000 euro di imposte dirette e di IVA questa accusa è stata mossa a uno che adesso come un immigrato qualsiasi sta facendo il trasportatore per conto terzi a uno ripeto che nella sua vita facendo il trasportatore internazionale non può aver fatto nero non può averlo fatto come trasporto internazionale e non può avere i soldi che ha perché sta facendo il camionista per conto terzi non ha niente allora hanno affermato che è evaso 1.300.000 euro in modo falso e abbiamo anche una giustizia tributaria che conferma questi accertamenti sapendo che è falso e quindi questi signori addirittura secondo me commettono falsità in atti pubblici quindi di fare accertamenti di questo tipo e di fare sentenze di questo tipo contro la povera gente un ex presidente di un'associazione provinciale con 11.000 persone che ha fatto il volontariato tutta la sua vita e che è ridotto a 60 anni a fare il camionista e nel giorno oggi che è diventato anche nonno per la terza volta dai quarta volta pensano oggi stanotte è passato stanotte c'è primo giugno comunque primo giugno 12.04 ma pensi che io sono qua a lavorare e non ho contribuito alla festa di mia moglie che oggi ha compiuto gli anni il primo giugno però mi ha perdonato perché sa che in maniera preventiva però la perdona in maniera preventiva c'è l'applauso questo è per gli auguri questi sono gli auguri a mia moglie ovviamente grazie Ruffiani Luisa Catellani allora sentite che disperazione da quando sono venuto a contatto con tanti casi così veramente ci si rende conto che è un obbligo mettersi in gioco non può essere una scelta cioè se tu sei consapevole devi farlo e confido nel cambiamento io ci credo fermamente mi sono messo in gioco anche personalmente da questo punto di vista perché sono sempre stata lontana dalla politica ma l'ho fatto credendoci e sicura anche che è un cambiamento adesso c'è una possibilità veramente concreta di cambiare qualcosa è l'unica per riprendere questo paese perché io lo vedo un paese assolutamente in fallimento quindi gli artigiani sono oltretutto la base culturale di questo paese perché è la cultura nostra il tessuto sociale è passato invece in questi anni la convinzione che dovevamo copiare altri paesi perché là c'erano le aziende grandi senza pensare che veramente le grandi eccellenze noi le abbiamo qui e sono queste da sostenere quindi è stato proprio sono stati errori culturali errori voluti ahimè però che adesso bisogna andare a riparare tutti perché bisogna andare a riparare lei è venuta da Modena da Reggio Emilia da Reggio Emilia pensate Reggio Emilia Monza Parma Trento Pescara vabbè lui da Romano Dezzelino insomma ma voglio dire per raccontare queste storie e a spese loro perché io Nogoschei dicono qua in Veneto non ho soldi per pagarli non sono a Rai che da sono venuti a denunciare i famosi impeachment no? come così viene definito l'accusa già chiuso diciamo noi io accuso coloro i quali hanno gestito il governo in questi anni di aver ridotto questo signore alla carità dico vergognatevi ma sarebbe troppo poco non ritange neanche smettetela di dire che avete salvato l'Italia perché l'avete portato al di là del burrone a partire da questo signore che questo non ne parliamo proprio se fate una carrellata e dite Vito non dormire stanotte perché hai visto i mostri ecco vabbè attento allora che cosa mancano 4-5 minuti così 4 minuti Bramino oltre a consulente questo dobbiamo fare per vincere queste battaglie e vorrei dire Salvini e company a Conte anche perché tutti i Conte sono stati bravi anche l'allenatore dell'Italia all'epoca è stato forte anche questo Conte sarà un altro allenatore per l'Italia attenzione attenzione che nessuno se la sta accorgendo però io che vado a fare gasolio ogni giorno sempre più siamo arrivati a 1 euro e 50 centesimi oh lui aveva detto l'amico Sardini che doveva toglier tutti gli accisi io sto a guardare occhio prego beh innanzitutto una revisione della legge fallimentare perché l'imprenditore non può più fallire perché lo Stato non lo paga lo Stato dovremmo averlo a nostro fianco come un amico non come un nemico siamo noi lo Stato quindi lo devono rappresentare siamo noi i loro pagatori nella bozza che abbiamo inviato adesso e che porteremo avanti con l'aiuto di tutti c'è questa e poi c'è anche la 119 del 2016 che è la legge delle banche scritta da tre bancari da tre avvocati delle banche questa legge è quella che consente gli espropri soprattutto quello della prima casa la prima casa deve diventare intoccabile e uno deve cercare di pagare i propri debiti perché è giusto anche pagarli nel modo giusto con la 3 2012 con la legge anti suicidi sono curioso sono curioso ma non ma non come come negli altri paesi però col piano del consumatore non come fanno qui che ti mettono all'asta la casa lo stesso te la mettono all'asta col solito intrallazzo del perito che te la valuta la metà o un quarto di quello che vale e il 25% ogni volta quando stagisci l'asta alla fine tu ti ritrovi come me come il signore con i debiti e non hai più la tua casa la casa la villa le riuscirà a riaverla sì o no ma io ci proverò fino all'ultimo ma non demorda non demorda perché combatterò fino all'ultimo per me ma anche per gli altri perché lavorando in un'associazione ho visto tanta gente tanta gente soffrire e mi sono detto che non posso girarmi dall'altra parte quindi mi spenderò per questo c'è stato quel signore che è stato ospite quella mattina ancora che aveva avuto il tumore qua e che aveva dopo sì ancora ha fatto l'oreca da mercante la sindaco sì 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 ancora dice che tutte le cose che sono state dette sono false e noi torneremo anche questo chi ha una malattia grave o perde il posto di lavoro si può aggredirlo e metterlo e mandarlo sulla soglia di povertà noi torneremo l'attacco questo non è più ammissibile perché guardate non è che ci tiriamo indietro siamo diciamo cose legali cose non non possono accusarci facciamo il nostro dovere di informare l'opinione pubblica finché faremo non mi piace neanche essere detto giornalista preferisco il lavoro che ho fatto per oltre 35 anni quello di insegnare italiano latino licei scientifici quindi preferisco essere chiamato professore guarda giuro perché io non sono un venduto chiaro se faccio questa premissione è che non faccio ancora il puttano quindi vado avanti per la mia strada e denunci i fatti che sono a denunciare perché l'italiano è una persona per bene ci sono anche i delinquenti per l'amore di Dio ma quelli vanno condannati sono i primi a indicarli con il dito quindi cerchiamo di un po' con il reno facci sciocchezze continuano ad essere forti devo chiudere devo chiudere io spero che questo governo incominci a trattare gli argomenti e capire che dietro a certe storie ci sono degli esseri umani certo degli esseri umani e come tali devono essere trattati va bene perché una persona ad esempio io fra venti giorni non so dove andrò a finire andrò fuori di casa senza soldi senza niente dove vado chi mi prende in carico qualcuno mi deve prendere in carico o no o lo stato è assente allora ha ragione una legge anche devo chiudere devo chiudere non so ci sono tanti problemi ma il prossimo anno apriremo ancora finché c'è vito c'è speranza per esempio venerdì prossimo parleremo di quello che accade sull'altipiano di Asiago tutti gli italiani devono sapere attenti al lupo questa è la nostra trasmissione di venerdì prossimo grazie signori grazie professor Monaco buona salute a tutti ogni bene e buon compleanno alla mia signora buonanotte buonanotte notizie oggi è una produzione di canale italia grazie a tutti